ed eccoci che appena è finita la partita con un core a 200 perché mamma mia sbaffa ha preso la traversa su punizione ha preso un colpo porca puttana per fortuna è andata bene ricco in attesa che anzi si è dimostrata niente male infatti verso la fine momenti sfiora il gol ha preso la traversa sbaffo sicuramente tra i migliori in campo secondo me quel giocatore con un po' capoccia in più avrebbe potuto fare un'altra carriera tra l'altro ex gubbio me ricordo bene e ci metto anche il portiere loro e quello zamacchia come cazzo si chiama tra i migliori in campo sicuramente per il gubbio di ste hanno segnato di stefano e incluso tazzer tra l'altro anche lui tra i migliori in campo ottima partita la sua secondo me insieme con di stefano che tra l'altro ha preso anche una traversa incredibile mamma mia ha spaccato letteralmente la traversa e quindi anche meneghetti che nel primo tempo ha fatto un'ottima parata ci metto forse bontà non mi ha impressionato un granchì anche bonini che sul gol loro la butta via piano piano butta la via per bene si da buttà via se no è inutile abbiamo regalato praticamente il gol bonini mi sembra mancini alterna ottime cose a pessime cose e quindi niente però se passa al turno quindi ottimo così oggi erano un programma una marea di partite era impossibile seguirle tutte ho visto un risultato appare il novara che per diago alessandra 2 a 1 poi vabbè ce ne saranno 10.000 le partite e quindi ottimo così passaggio del turno alla fine va bene tra i migliori ci metto anche intanto c'è sì una fermata 2 a 1 gol della fermata l'ultimo ci metto anche bulevardi bella prestazione la sua ottimo nel complesso anche perché giocavano parecchi riservi quindi ottimo dubbio nel complesso poi vabbè qualcosa hanno fatto anche loro soprattutto nel primo tempo qualche due tre occasioni e ce l'hanno avute però va bene così va bene così ottimo dubbio così continua ottima striscia direi penso che meglio le corsi non se potrebbe far sinceramente parlando proprio se poi le fa sempre meglio magari al primo tempo qualche passaggio sbagliato da troppo però ci siamo gran dubbio come non se ne vedevano da anni forse anche meglio dell'anno scorso sinceramente e poi va bene il discorso delle riserve alla fine riservi secondo me questi hanno giocatori che potrebbero giocare titolari in qualunque squadra serie c sinceramente parlando quindi alla fine riservi fino a un certo punto però ci siamo ampiamente contento del dubbio non c'ho niente da di sinceramente parlando quindi sinceramente a sta gente che critica e questo e quell'altro infatti i cazzi vostri sinceramente poi c'ho un'altra premessa da fare i signori della carraresi e tifosi della carraresi che è venuto a rompire i coglioni quell'altra volta sotto l'altro video ma se guardate gli highlights vedrete che l'albitro non c'entra proprio un cazzo in quella partita avevamo preso a sassati quindi c'è ben poco da dire sinceramente su quella partita state vezzitti giocate le vostre partiti e non venite a rompi i coglioni a chi li rupe ecco poi sta partita ha fatto ridere perché il tabellone si era scassato letteralmente quindi in partita quindi non si vedono manco i numeri la gente ha di cambiate le pide sono morto letteralmente mamma mia sono letteralmente morto top top comunque grande dubbio e quindi va bene così appuntamento alla prossima e sempre 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 forza dubbio per fortuna porca troia questo telefono fa un buro venisse a stare presto taghi porca puttana niente camp Kathryn